E' arrivata la Generalessa, la diretrizia generale, qui se c'è qualcuno che si ruba lo stipendio, non siamo di certo noi, lo sta cambiando sempre in peggio, e dopo solo sei mesi di matrimonio, è spaventoso, oh signora non faccia così, non faccia così, vuole per caso che le prepari una bella peperonata per tirarsi su, no grazie, ma quando sono triste mi si chiude lo stomaco, che noce, oh madonna, sta bene signor Bassini, benissimo grazie, ah, malissimo, amore funziona a cercare, ma perché vuoi qualcosa? , io non ho detto, perché mi vuole esempio il proprio contrario, ma ti lascia? caro ma stiamo scendendo? Bene vai pure, una parola al dottore, ve go amore. Vado pure. Dottor Morino! Non capisco perché mi si deve impedire in macchina. Altezza! Rosa, Rosa, stai su. Per favore, Rosa. Stai su. Stai su. La ballerina della terza fila del Muleo. Eccola, la signora Bassinetto. Amore, amore. Io sono l'artista, sono la grande, la mitica, l'unica, Madame Popolet. Apertura l'area 150. Girovita 62. Alcarnese mi misura 39. E Susanna, tutta panna, si affittano a sartoria. Si finge sarto. Ma i malicomi lo dovrebbero mandare, il dottor Morino. Che cosa sta facendo la Yolanda? La Yolanda sta ponendo la porta della sua signora. Ma veramente, io ho sentito parlare e non lavorare. Grazie. Applausi. 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 Applausi.